Allora, sono qui in Solidworks e questo disegno va bene, abbastanza bene, e l'unico problema è questo, cioè nel senso questo smusso lo posso fare se è per 45, ma non essendo per 45, per forza io non posso quotarlo così, perché 25 qual è l'angolo di 25, ok? E dunque bisogna andare a quotare l'angolo, e l'uno. Altra cosa, così va bene, difatti avevo suggerito io, però ultimamente ho letto un articolo in cui sostiene che comunque, anche se questa è concessa nella normativa, secondo alcuni studiosi, è ambigua, e dunque, diciamo, ripeto, da un punto di vista normativo è corretto, Però, secondo, ripeto, alcuni studiosi è ambigua, dunque, il metodo migliore sarebbe andare a togliere qua la planarità e mettere localizzazione. Con la localizzazione si toglie questa ambiguità dovuta proprio, dal punto di vista teorico, alla definizione di planarità. E dunque, a questo punto, bisognerebbe andare qui e mettere al posto di planarità semplicemente localizzazione. Ok. E così dovrebbe essere più corretta rispetto alla planarità. Vabbè, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.